Nei musei non ci sono soltanto le cose straordinarie, ma anche le cose minimali, quotidiane. Ah beh, sì, dopo Duchamp è valido tutto. Oh ma che citazione colta! Vabbè, comunque la notizia è questa. Anche gli oggetti più semplici possono essere protagonisti di un allestimento sorprendente. È quello che succede nel Museo delle Cose della Vita Rurale, a Collecchio, in provincia di Parma. Questo museo etnografico ospita una grande collezione di oggetti di vita contadina, raccolti dal maestro elementare di campagna Ettore Guatelli, dal dopoguerra fino alla sua morte. Sono circa 60.000, tra scarpe, attrezzi, valigie, orologi, ruote di carri, biciclette, scatole, tutti disposti scenograficamente sui muri del museo. Adesso è chiuso per una pausa invernale, ma a fine febbraio riapre. Beh, effettivamente, queste cose rappresentano un po' la lezione delle cose normali, delle cose di uso, perché accanto all'idea dell'oggetto pop alla Duchamp, ma poi invece c'è l'uso, cioè le persone che l'hanno usato, quindi una storia che si è fermata sulle scarpe, per esempio. Ho visto una cosa del genere, di fronte al museo Al Maxi di Roma, c'è un altro museo, invece molto più giovane, dove hanno raccolto, visto che quella era una cosa militare, hanno raccolto tutto quello che c'era lì, e quindi dalle macchine da scrivere, alle scrivanie, alle birro, e mettendole tutte insieme. Ed è incredibile, perché c'è la sedimentazione di una storia. Bello. Beh, ma parli bene quando vuoi.